ciao ragazzi buongiorno cioè almeno buongiorno dall'orario in cui vi sto parlando io sono billy e questo è la mia macchina la mia macchina sì la mia macchina la mia macchina sì la mia macchina ma non è un video sui cd davvero no invece lo è guarda guarda come diventa un video sui cd ora vedo i suoi cd vabbè comunque a parte le minchiate perché qua ce ne sono sempre tante non ce l'ho fatta perdonaste ma non ce l'ho fatta quanta cazzo di gente viene proprio adesso in questo momento io devo uscire dal parcheggio altrimenti non posso andare al lavoro capite non so se avete credente come funzionano le cose e non ce l'ho fatta perdonaste ripeto però vi spiego posso spiegare non è come sembra che caga rega rega che caga non vi spiego tutto non vi spiego tutto praticamente ieri sera e i video delle recensioni cd di solito registro la sera non ce l'ho fatta perché perché ero a vedere quei dementi degli idola teatri sono i miei migliori amichetti suonatici e scusa mio amico sono di fretta c'era un bambino che doveva attraversare il vestito comunque no niente appunto c'erano un contest dove c'erano i miei amici idola teatri e quindi sono andato a vederli e hanno finito a casa verso mezzanotte quindi ero distrutto sull'altro quindi non ce l'avrei fatta e domenica in generale non ho avuto tempo manco per pulirmi il culo perché la mattina ho registrato monetine e poi dopo aver registrato monetine sono corso fuori che si stava via tutto il giorno ovviamente e quando sono tornato poi sono riuscito perché per cena sono andato fuori per poi andare nei miei amici quindi non ce l'ho fatta tra l'altro un applauso agli white noise che non ho sentito ma che sono bravissimi cioè proprio non li ho sentiti nel senso che non ho mai sentito che musica fanno però sono veramente bravi infatti ho attaccato il loro adesivo dietro alla macchina e niente tutto qua questo nella motivazione peccato perché c'era un cd da vedere ma vabbè sarà per la prossima settimana ragazzi io sto piano piano morendo sempre di più sono cose che succedono quindi io vi auguro una buona giornata e niente ci vediamo domani con chissà cosa e e speriamo prossima settimana di vedere un cd che dice dai forse aspettate che ora arrivo ci si ferma al semaforo e stop il video aspetta 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 un attimo perfetto Schubert grob limits